È gennaio e di solito è la stagione delle partite IVA, infatti molte sbocciano e scoprono questa realtà per molti infernale e invece per tanti altri anche gioiosa e liberatoria. Ad esempio, io nella mia partita IVA diciamo che non mi lamento. Infatti, soprattutto se siete delle partite IVA forfettarie, il mondo è molto più lieve rispetto a quello raccontato magari dai dipendenti pubblici. Ed ecco che in questo video voglio raccontarvi alcune dritte, in particolar modo da un punto di vista finanziario, per vivere al meglio la vostra partita IVA forfettaria. Noi, popolo italiano, sappiamo molto poco di educazione finanziaria e quindi quando ci imbattiamo nella gestione della partita IVA, lì il panico, non sappiamo più dove sbattere. Ecco quindi che ho pensato a questo video per darvi qualche consiglio su una gestione più efficace e senza pensieri o comunque con meno stress della partita IVA. Una prima cosa su cui dovete stare attenti è capire i vostri flussi di cassa. Un flusso di cassa in termini finanziari è una quantità di denaro che può uscire o entrare dal vostro conto corrente. Quindi si parla di flussi di cassa in entrata quando noi riceviamo un pagamento e si parla di flussi di cassa in uscita quando noi dobbiamo esborsare un ammontare di denaro per pagare un servizio, per pagare le tasse e così via. Tutto molto semplice. Il problema è che potreste trovarvi in una situazione in cui il flusso di cassa, cioè del cliente che mi paga, e il flusso di uscita, ad esempio acquisto un servizio che mi permette di fare il mio lavoro, abbiano tempistiche molto differenti. Ad esempio, io eseguo un lavoro, ho dei costi per eseguire il lavoro che sono oggi, ma magari il cliente mi paga tra tre mesi. Ecco che qui si crea un problema di flussi di cassa, di coincidenza dei flussi di cassa. Infatti devo sostenere un costo oggi e un guadagno lo vedrò dopo tre mesi. E in questi tre mesi che faccio? Ecco che in questo caso si parla di analisi dei flussi di cassa in entrata e in uscita ed eventuale approvvigionamento finanziario. In quanto se ricevo il guadagno dopo tre mesi, io in questi tre mesi devo campare e quindi devo avere delle risorse finanziarie che mi permettono di arrivare ai tre mesi quando riceverò il pagamento. Mi potrebbe sembrare una questione banale, ma vi posso assicurare che tantissime aziende falliscono non perché non hanno clienti o non riescono a commerciare con i propri clienti, ma perché non riescono a valutare attentamente questa gestione dei flussi di cassa. Per cui arrivano a effettuare un lavoro, hanno il cliente soddisfatto, ma poi magari devono chiudere battenti perché non hanno comunque ricevuto il pagamento, hanno dietro i debitori che li tartassano e quindi sono costretti al fallimento. Uno dei flussi di cassa più certi e importanti sono ovviamente le tasse, quindi con questa analisi dei flussi di cassa io partirei innanzitutto da questo. Il punto è che molto spesso vedo che le persone non riescono a capire le regole del gioco, nel senso pensano che da un giorno all'altro lo Stato ci chiede un sacco di soldi e non sappiamo bene il motivo. In realtà le regole fiscali e tributarie sono scritte da tutte le parti, quindi prima di aprire la partita IVA sappiamo già come un po' funziona la partita IVA, cioè che il pagamento avviene in due tranche o in una tranche o il 30 giugno o il 30 novembre o in entrambe le date, il pagamento delle tasse, soprattutto dell'IRPEF, avviene attraverso un sistema di acconto e saldo e tutta una serie di cose su cui noi dobbiamo stare attenti. Quindi noi sappiamo già le regole del gioco e dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio questa informazione e quindi programmare. Noi sappiamo che il 30 novembre arriverà l'Agenzia delle Entrate che ci chiederà il pagamento delle tasse e dobbiamo essere pronti a questo flusso di cassa in uscita e quindi programmare pian piano il raggiungimento del capitale da poi sborsare verso l'Agenzia delle Entrate. Quanto si prende l'Agenzia delle Entrate? Beh è molto semplice, potete andare a vedere in un sito dell'Agenzia delle Entrate, io l'ho risolto con un banalissimo file Excel, ma ad esempio se avete dei software di fatturazione elettronica riescono a calcolarvi direttamente voi quanto dovete all'Agenzia delle Entrate. Quindi con dei semplici calcoli in base a quanto guadagno so quanto devo spendere e so che il 30 giugno o il 30 novembre mi chiederanno quei soldi. Niente di più semplice. E già questo passo vi fa vivere con estremamente molti meno stress la vita da partita IVA. Un'altra cosa che dovete sapere da un punto di vista finanziario è che il primo anno la partita IVA forfettaria non paga tasse in quanto il pagamento delle imposte avviene dal secondo anno. Questa è anche una cosa da sapere perché il primo anno magari non arriva l'esborso dell'Agenzia delle Entrate e quindi magari si ha la tentazione di sperperare un po' quelle risorse. Dovete sapere però è vero che il primo anno l'Agenzia delle Entrate non ci chiede soldi ma il secondo anno ci chiede dall'1,5 anche due volte rispetto a quello che dovevamo pagare il primo anno. Questo per un sistema che viene chiamato di saldo e acconto. Quindi che cosa succede? Nel 2024 quando abbiamo aperto la partita IVA l'Agenzia delle Entrate come abbiamo detto non ci chiede neanche un euro. Che cosa succede però? Nel 2025 ci chiede il saldo per intero del 2024 e un acconto per il 2025. Cioè cosa sta dicendo? Tu hai guadagnato X nel 2024, secondo me guadagnerai X anche nel 2025 e mi devi dare una parte anche se non l'hai ancora guadagnata direttamente già nel 2025. Questo è proprio l'acconto. Quindi come potete vedere se il primo anno non paghiamo nulla nel secondo anno paghiamo praticamente una volta e mezzo quello che dovevamo pagare nel 2024. E voi mi direte ma io continuerò a pagare sempre una volta e mezzo rispetto a quanto dovuto? Beh in realtà no. In quanto arrivati nel 2026 che cosa succederà? L'Agenzia delle Entrate ci chiederà il saldo del 2025 ma noi già una parte l'avevamo pagata proprio nel 2025. Quindi questo sarà la metà del 2025 parlando proprio in termini banali e poi ci chiederà l'acconto per il 2026 che sarebbe anche questa la metà del 2025 più o meno ovviamente non è così preciso. E quindi in un anno dopo il secondo anno di partita ivo quindi dal terzo effettivamente noi andremo a pagare ogni volta un'annualità di tasse che dovremmo pagare. Molte persone non conoscono questa roba qui e quindi arrivano al secondo o al terzo anno già in affanno dove pensano che stanno pagando un sacco di tasse e non sanno dove li hanno guadagnati ecco che però invece conoscendo questi flussi di cassa noi ci organizziamo e arriviamo al 30 di novembre o al 30 di giugno già preparati con i soldi pronti, ben conservati da poi sborsare all'Agenzia delle Entrate purtroppo però è così. Questo meccanismo di saldo a conto nasconde anche un piccolo tranello in quanto nel caso in cui dovessi guadagnare un sacco di soldi nel 2025 ma il 2024 e il 2026 restare comunque anni normali da un punto di vista di incassi questo potrebbe crearmi dei problemi da un punto di vista di esborso fiscale negli anni successivi perché proprio grazie a questo meccanismo nel 2026 le imposte vanno a calcolarsi sul 2025 ma il 2025 è stato un anno straordinario che magari non succederà mai più e quindi poter ritrovarmi nel 2026 quando ritorno a guadagnare molto meno magari in affanno perché devo pagare un sacco di tasse dovute l'anno precedente quindi bisogna stare attenti anche a queste piccole dinamiche ovviamente l'aiuto di un commercialista riesce a risolvervi anche queste cose quindi è una cosa molto importante avere un confronto abbastanza onesto e senza paura con il commercialista e chiedere ok ma è accaduta questa cosa cosa succederà nell'anno prossimo per organizzarci al meglio con questi flussi di cassa quindi conoscendo sia i flussi di cassa delle agenzie delle entrate ma anche i vostri personali riuscite a capire esattamente le entrate e le uscite e non rischiare di rimanere senza soldi oppure con debiti che avete difficoltà a pagare un altro aspetto molto importante che vi aiuta un sacco nella gestione delle vostre risorse da giovani partite IVA è calcolare il BEP cioè il break even point detto in inglese oppure punto di pareggio se vogliamo parlare in italiano che cosa ci dice il break even point? è un concetto molto semplice però molti non lo fanno sarebbe calcolare quanto devo fatturare per coprire tutte le mie spese una volta coperte tutte le mie spese se fatturo anche un euro di più significa che quello è un euro guadagnato un euro veramente di incassi per parlare in termini proprio terra terra perché è importante conoscere questo termine? perché appunto mi dà una soglia obiettivo da raggiungere per diventare redditivo per creare appunto reddito è un aspetto molto importante perché mi fa ragionare su quanto devo fatturare con quali tempistiche quali sono i costi eventualmente da abbattere costi variabili costi fissi sono tutte tematiche che mi fanno conoscere meglio la mia attività e quindi programmare con più attenzione tutti questi aspetti finanziari possono sembrare concetti molto difficili e se analizziamo un'azienda molto grande lo sono ma per una semplice partita IVA e magari anche un professionista che ha pochi costi tutti questi ragionamenti sono assolutamente banali da risolvere ad esempio io l'ho fatto con la mia attività l'anno scorso avevo un BEP di circa 15.000 euro niente di che però è importante saperlo perché so qual è l'obiettivo minimo da raggiungere per rendere tutta la baracca sostenibile ovviamente in questo BEP possiamo considerare o meno il reddito che vogliamo avere tendenzialmente non si considera almeno per le partite IVA perché in quel caso voglio capire quale è il costo di tutta la struttura gestionale della mia partita IVA però magari all'interno del BEP e quindi dei costi della mia partita IVA posso mettere anche un reddito obiettivo ad esempio voglio avere 1.200 euro al mese raggiungiamo anche dei costi di gestione ad esempio l'affitto del locale o altri costi di software professionali magari raggiungiamo un BEP di 2.000 euro al mese ecco che a quel punto so che devo fatturare almeno 2.000 euro al mese per raggiungere un punto di pareggio quindi riuscire a sopravvivere e pagare anche tutte le altre spese di nuovo sembrano concetti difficili ma stiamo parlando banalmente di somme e sottrazioni quindi vado a calcolarmi tutti i costi che ho e anche ipotizzare alcuni che potrei avere e poi ovviamente man mano monitorarli e potenziali ricavi che posso avere perché c'è utile questo? c'è utile anche magari nei momenti prima di aprire una partita IVA perché questo mi può far rendere conto se un business è sostenibile o meno se ad esempio vado a calcolarmi tutti i costi e raggiungo un BEP di 50.000 euro e con la mia attività per i primi due anni riesco a raggiungere malapena i 30.000 euro vedete che c'è un problema di sostenibilità finanziaria perché ogni anno io vado di sotto al di sotto e vado in negativo di 20.000 euro quindi alla fine dei due anni raggiungo una negatività di 40.000 euro e in quel caso cosa si fa? vado a prendere delle risorse proprie cioè il risparmio personale mi indebito non apro proprio la partita IVA vedete che ogni situazione ci può dare delle decisioni che possiamo percorrere come vedete stiamo andando per gradi abbiamo visto come gestire l'aspetto fiscalità quindi raccogliere risorse e sapere quanto devo raccogliere per soddisfare le richieste a volte molto grandi delle agenzie delle entrate abbiamo visto la gestione dei costi e come capire se riesco ad essere redditivo oppure meno un altro aspetto molto importante è la gestione della liquidità un esempio banale è quello delle tasse cioè guadagno adesso ma magari dovrò pagare queste tasse l'anno dopo il 30 novembre nel frattempo che cosa faccio oppure ancora come gestisco queste risorse un primo consiglio molto banale è quello di aprire un secondo conto corrente o un conto deposito quello che volete e un consiglio molto valido è quello di destinare a quel conto tutti i soldi relativi alle tasse ad esempio quindi noi abbiamo un nostro conto corrente personale dove facciamo le nostre spese personali e un conto corrente aziendale se vogliamo mettere così vi ricordo che per legge non è obbligatorio avere un conto corrente specifico per la partita IVA possiamo utilizzare anche il nostro conto corrente personale però avere un secondo conto che destiniamo ai soldi per le tasse i soldi per l'acquisto del software che magari è un abbonamento mensile e così via ci aiuta tantissimo a distinguere le risorse finanziarie per obiettivo incorriamo in molti meno errori quindi assolutamente consigliato creare due conti separati uno per le tasse uno per la gestione propria ma questo conto corrente mettiamolo così o questo conto deposito è appunto per le tasse le tasse sappiamo che arriveranno il 30 di novembre magari dell'anno prossimo per doverle pagare che cosa si può fare nel frattempo di questa liquidità? ci sono varie scelte da quelle più prudenziali a quelle magari un po' più smart quella prudenziale è sicuramente lasciare i soldi lì nel conto corrente non toccarli, non spenderli e poi quando il commercialista ci dice fai il bonifico all'agenzia delle entrate lo facciamo è fine della storia però possiamo anche investirli possiamo prendere un conto deposito magari con scadenze inferiori rispetto alla data in cui dovremmo andare a pagare le tasse oppure un'altra cosa molto utile che io magari potrei suggerire per determinati clienti è eventualmente acquistare degli strumenti finanziari che mi permettono di investire in titoli obbligazionari a breve termine e che quindi mi danno un ottimo rendimento con una ottima capacità di uscita anche dell'investimento e nel frattempo in cui passa il tempo e arriva il 30 novembre comunque generano una certa rendita quindi esistono tranquillamente anche degli ETF su cui possiamo investire queste risorse che ci danno tanta garanzia e tanta tranquillità ma che comunque ci danno anche un rendimento su questi soldi che sono dormienti perché ci servono per pagare le tasse un ulteriore aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda gli aspetti finanziari di una partita IVA è sicuramente quello di creare un cuscinetto per gli imprevisti come lo creiamo per noi stessi per la nostra vita personale e sociale magari un piccolo cuscinetto perché magari si rompe la macchina devo aggiustare una tubatura e quindi ci serve per quello scopo lì se vogliamo e se la partita IVA comunque va bene ovvio che se arriviamo a malapena al BEP questa opzione è difficilmente percorribile però se la partita IVA va bene ha molta redditività e così via creare anche qui un piccolo grussoletto orientato verso eventuali imprevisti riguardanti proprio la professione e la gestione della partita IVA è sicuramente un consiglio ottimale e che anche questo fa diminuire tantissimo lo stress della gestione di una partita IVA in maniera autonoma quanto potrebbe essere grande? anche qui dipende molto dall'attività della partita IVA da quanto è complessa, da cosa facciamo da quanto la professione è esposta a dei rischi economici dipende tantissimo quindi anche qui c'è da fare una valutazione oggettiva e capire esattamente quanto è utile tenere da parte anche qui magari investendolo in strumenti non troppo rischiosi in modo tale che comunque non sia totalmente un capitale dormiente secondo me con questi piccoli e semplici consigli sulla gestione finanziaria di una partita IVA state belli tranquilli e dormite su sette cuscini lo faccio anche io non mi sto trovando affatto male avete quel tocco di libertà in più che non guasta mai e utilizzando queste piccole tecniche finanziarie non avete assolutamente nessun problema come vi dicevo niente di complicato ovviamente stiamo parlando comunque di attività economica come le partite IVA forfettarie che tendenzialmente hanno di solito i professionisti i medici, gli ingegneri, gli avvocati, i consulenti e così via robe molto semplici ma che davvero vi fanno abbassare il livello di stress di gestione di una partita IVA in maniera assolutamente drastica niente di più semplice poi ovvio che se stiamo parlando magari di partite IVA forfettarie non forfettarie ma ordinarie che fanno una gestione più particolare che hanno dei flussi di cassa più complessi che devono acquistare materie prime e poi rivenderle e tutto il resto ovvio che c'è dietro un lavoro di programmazione e controllo e gestione delle risorse molto più complicato però per delle partite IVA forfettarie molto semplici 3-4 consigli al massimo finanziari che vi ho dato state tranquilli perfetti e vedrete che non avrete nessuna ansia nella gestione della vostra partita IVA io spero di avervi dato una mano e avervi raccontato un po' questo mondo che molto spesso è raccontato come l'inferno ma in realtà inferno più di tanto non è ovvio devi raccoglierti i clienti devi avere un po' di spirito imprenditoriale però si può fare si può vivere soprattutto in partita IVA forfettarie che è veramente uno sweet spot se avete bisogno di consulenze finanziarie patrimoniali sia individuali ma che per le vostre partite IVA o per le vostre aziende c'è Cocumi Finance lo studio di wealth management creato da Whatsapp Economy e cioè creato da Giorgio De Marco oltre a questo io vi ringrazio e vi saluto alla prossima ciao 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 ciao